Buongiorno, oggi parliamo di ecolibratura, più nello specifico di centraggio. Il modo migliore per eseguire un centraggio è l'utilizzo di queste boccole di precisione dalla parte interna, sono boccole bifronte a bassa conicità che permettono di aumentare la superficie di appoggio del cerchio sulla boccola e l'utilizzo di questa nuova flangia dalla parte esterna in modo da poter simulare al 100% come poi la ruota sarà montata sul veicolo. La flangia, sono vari tipi di flange universali che si adattano a tutte le tipologie di cerchi e di fori avendo questi innesti sostituibili sia sferici che conici di varie dimensioni per andare a centrare nel miglior modo possibile nel foro dei bulloni. La flangia, una volta posizionato chiaramente la boccola dalla parte interna, permette di bloccare il cerchio nel modo migliore, assolutamente, con la maggior precisione possibile, permette di scaricare il carico della ruota su cinque fori come poi viene nel veicolo su strada e soprattutto non va a contatto col cerchio perché va a bloccare direttamente nel foro dei bulloni. La flangia è rapida, leggera, in modo da essere posizionata comodamente in maniera rapida per cui vado a impostare l'interasse in base al cerchio, all'interasse dei fori del cerchio e vado a bloccare con la maniglia nel caso in cui abbia una macchina a bloccaggio manuale. Una volta bloccata la ruota con la nostra flangia dall'esterno possiamo andare a eseguire il lancio di equilibratura. Eseguire un corretto centraggio è il miglior modo per iniziare un'equilibratura perché una volta eseguito il centraggio nel miglior modo possibile professionale abbiamo già fatto un 50% della nostra equilibratura. La flangia può essere utilizzata con tutti i modelli di equilibratrici con diametro 40 anche con quelle che hanno bloccaggio automatico utilizzando questo datatore che va avvitato sulla flangia stessa. E' bloccato direttamente col bloccaggio automatico.